Siamo da Silvio Messana, Silvio è un personaggio nel mondo del vino, puoi raccontarti brevemente? Certo, buonasera a tutti, sono nato a Firenze, cresciuto in Nord Africa, Tunisia, famiglia di agricoltori, viticoltori, olivicoltori in Tunisia e in Libia, madre russa, genitori che si sono incontrati attraverso le vicende della vita in Tunisia, io nato a Firenze, appunto come ho detto, cresciuto lì, lingua madre francese, poi università a Firenze, economia e commercio, che poi una volta terminata sono andato negli Stati Uniti perché volevo studiare musica e sono andato alla Berkeley di Boston per diventare sassofonista. Sono stato negli Stati Uniti per 15 anni facendo musica per diletto e per cercare di viverne, ma poi alla fine per vivere vendevo vino e attraverso questa attività ho assaggiato tanti vini diversi di varie parti del mondo. Finita l'esperienza americana sono tornato in Toscana dove ho messo su cantina e ho cominciato a fare vino. E siccome so che sei bravo, perché sei biodinamico e biologico, vorrei sapere quanto è l'impegno della tua cantina nel campo della sostenibilità ambientale e nella difesa della biodiversità? Allora, l'impegno della cantina di fatto se noi si lavora bene in vigna non è tanto, perché io paragono spesso alla cucina, se una carne, un pesce o una verdura è buona non c'è da fare tanto. L'impegno della cantina è un impegno di accompagnamento, per me la vendemmia è un momento di verità. Io accolgo le uve, cerco di capire che cosa mi possono dare e le aiuto, le accompagno per portarle fino al vino. Non c'è mai un preconcetto, un'idea di un vino che voglio ottenere. Per cui l'impegno della cantina è, direi, minimo. C'è un impegno di tempo, c'è un impegno di energia e di amore anche, direi, nei confronti del vino. Ma non c'è un impegno di modifica o un'intenzione di trasformare una materia prima che io comunque stimo e nella quale ho piena fiducia. Praticamente mi hai anticipato sulla domanda, perché io ti volevo chiedere di parlarmi sulla viticoltura naturale. Vuoi aggiungere qualcosa? Ma certamente, sulla viticoltura naturale io direi di ricordarci sempre, innanzitutto, di essere agricoltori. E non solo viticoltori. Per cui, biodiversità, cerchiamo di portare animali in azienda, facciamo gli orti, facciamo frutteti. Ripeto, biodiversità assolutamente essenziale per la salute nostra, ma anche della campagna. Il lavoro in vigna, anche lì, lo considero un lavoro di accompagnamento. La biodinamica mi ha aiutato a capire quello che vogliono le piante, come aiutarle, come farle crescere sane. E interventi... La tempistica è molto importante, bisogna essere presenti. Come in cantina, anche in vigna, bisogna essere presenti al momento giusto. E credere nelle piante. Ricordiamoci poi che le piante sono esseri viventi, sono esseri intelligenti, anche capaci di decisioni. Per cui, massimo rispetto e massimo amore, direi. Allora, puoi darci delle indicazioni più precise, visto che sei tu il decano della biodinamica in Toscana. Quali sono i tuoi fondamenti, i gesti, la filosofia? Allora, noi cerchiamo di rispettare i cicli della Luna, usiamo preparati biodinamici, però ricordiamoci anche un certo pragmatismo. Io voglio dire che i travasi si fanno nel momento giusto, però bisogna anche ricordarsi che la campagna ha i suoi tempi e che non sempre riusciamo a essere al 100% ligi a quello che dovremmo, ma si fa un lavoro di accompagnamento, di nuovo, anche qua, di lavoro con la campagna. I gesti sono quelli dell'agricoltura, anche tradizionale in fondo, non voglio dire convenzionale, ma tradizionale, che si sono sempre fatti da secoli, con l'aggiunta di una scienza che ci è arrivata da Rudolf Steiner e dalla biodinamica, che ha dato tanto all'agricoltura. Ti voglio fare una domanda inaspettata e ti dico, cos'è, so che quando hai iniziato, ormai tanti anni fa, hai iniziato con un'agricoltura convenzionale. Qual è stata la scintilla che ti ha fatto scattare l'idea di diventare biodinamico? Innanzitutto il fastidio, il peso di usare dei prodotti che sentivo nocivi per la mia salute. Io all'inizio sono stato trattorista, potatore, muratore, ho fatto tutto in azienda. Finivo i trattamenti, scendevo dal trattore e mi mancava il respiro. Per cui veramente un fastidio e direi anche un disgusto per l'odore di certi prodotti, perché sentivo sul mio corpo che erano veramente nocivi. Abbino a questo poi la conoscenza, l'incontro con delle persone come Nicola Jolie o Stefano Bellozzi, che mi hanno portato su una strada completamente diversa e mi hanno aperto un mondo. La biodinamica per me è stata quasi inevitabile. Avevo già cominciato la conversione al biologico, però non sono la stessa cosa. Il biologico lo paragonò a una dieta e il biodinamico è una filosofia di vita. Silvio, l'ultima domanda. La differenza di suoli, di altitudini e di terreni, come influisce sulla qualità delle uve e dunque sulla qualità dei vini? Magicamente direi. A Cerbaia, zona più bassa, 150 metri, come hai detto giustamente, argilla e ciotolo di fiume, vini più carnosi, più sanguigni, meno profondi, meno scheletro, meno complessità, ma una grande piacevolezza di beva. A Vignano, dove c'è più scheletro, un galestro, quello tradizionale del Chianti, uno scheletro profondo, un vigneto più freddo, clima più freddo, vini più croccanti, acidità più tese, dei vini più verticali direi. Una bellissima esperienza lavorare su questi due vigneti per rendersi conto di come, senza che ci sia un meglio o un peggio, ci sono delle diversità che ci danno una diversità di sapori, di profumi straordinari. Perfetto. Sono ansioso di andare a assaggiare i tuoi vini, grazie. Grazie della visita, grazie dell'opportunità di parlare della mia azienda.